Filippo Del Corno, della Sassora alla Cultura della città del Comune di Milano, qual è il valore culturale che porta Mito a Milano? Grazie, buongiorno a tutti. Credo che il valore culturale che Mito a Settembre e Musica porta alle due città sia quello di una diffusione territoriale della musica e di una sua grande accessibilità, perché è già stato prima ricordato dalla Presidente il fatto che i concerti siano sempre a un prezzo assolutamente accessibile, siano largamente diffusi nei territori urbani delle due città e quindi con un principio inclusivo che vede il tema appunto dell'accessibilità alla musica come cruciale. Però io penso che si debba anche ragionare un po' dal punto di vista delle ricadute nazionali che questo progetto ha. È un anno ormai che il Festival Mito a Settembre e Musica è riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo con un contributo che sia pure non estremamente significativo dal punto di vista economico, è comunque rilevante dal punto di vista simbolico, perché premia il fatto che questo festival ha finalizzato in maniera molto precisa la propria missione di essere un festival di musica classica, anche o che siano grandissime le presenze appunto dei musicisti contemporanei e degli autori appunto viventi, e nonostante l'incursione della partitura di Elio, il confine diciamo che noi possiamo mettere rispetto alla produzione musicale è appunto quello che sta dentro quel mondo che in maniera ormai sempre più ambigua e difficile da definire definiamo classica. Però questa missione è precisata secondo me in maniera molto forte dalla Direzione Artistica di Nicola Campogrande, chiedendo a tutti gli artisti che partecipano di realizzare dei programmi che di fatto rispondono alla sollecitazione del Direttore Artistico e si inseriscono quindi in un quadro organico di programmazione. Questo è credo la maniera migliore di diffondere e promuovere l'ascolto della musica, sia essa di repertorio sia essa contemporanea, attraverso un processo anche di assunzione diciamo di responsabilità del pubblico rispetto a ciò che andrà ad ascoltare. E quindi le geografie appunto che verranno percorse nel corso del Festival sono sì geografie appunto mondiali come quelle descritte da Nicola Campogrande ma diventano anche geografie urbane per il fatto che la musica attraverserà e soprattutto abiterà l'intera città. Ma anche una sorta di promemoria di geografia nazionale pensando a come la straordinaria tradizione musicale, che ovviamente nel nostro Paese ha una sua specifica vocazione, possa essere davvero l'elemento unificante di un progetto culturale così ampio e così anche seducente dal punto di vista della sua programmazione. Credo che questa alleanza tra le due città di fatto trovi moltissimi elementi di comunanza ma anche una forte proposta di assunzione appunto di una responsabilità nazionale rispetto all'idea di una sempre maggiore diffusione ma anche una sempre maggiore accessibilità dei linguaggi davvero molteplici e plurali della musica classica. Non dimentichiamo i numeri che ha detto prima il maestro Nicola Campogrande e dei compositori che sono presenti nella programmazione. Davvero noi abbiamo la possibilità di percorrere non soltanto un intero globo, diciamo, dal punto di vista della sua estensione geografica di musica ma anche proprio dal punto di vista della straordinaria molteplicità di linguaggi che sono rappresentati e proposti sui palcocerici delle due città. E questo credo che sia un elemento di grande interesse che ancora una volta rafforza in maniera ancora più evidente la missione specifica di un festival che è di fatto un unicum non soltanto nel nostro paese ma non esiste davvero al mondo un festival che in maniera così organica costruisce un ponte di relazione tra due città della rilevanza e dell'importanza di Torino e Milano.